Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Estremo Sprach, Frach, Frach, Straft, 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 Flank, Frank, Straft, Flank, Straft, Flank, Straft, Flank Oggi ho un sacco di cose da dirvi Mentre smaltello il tutto qui, vi annuncio che questa sera A parte che dovete mettere pollici in su a questo video, anche perché oggi Se riesco ci saranno altri extra, a parte quello, diciamo che è un po' una cosa obbligatoria inizialmente E poi vi ricordo che ieri sera abbiamo iniziato la serie in live con tutti i game grabbers Abbiamo finalmente iniziato la famosa serie e saremo in live tutte le sere Tutte, tutte le sere, fino a che non finisce la serie logicamente Poi però, questa sera saremo in live non alle 18, non alle 19, ma alle 17 Saremo in live un'ora cazzo ora prima Perché un'ora prima? Perché Luke è lì? Beh sì sì, anche per quello però No, saremo in live un'ora prima perché ragazzi così finiremo un'ora dopo Cioè nel senso, faremo un'ora in più di live Non lo so, comunque, seguiteci Molti di voi mi han detto Luke, hai i piani superiori? Io lo so che ho i piani superiori ma ho paura Non ci sono mai andato, sinceramente C'è qualcuno, guarda qua chi c'è Ciao Nonno Ok, facciamo qui la stanza dell'Ambaradam Mmm, qua bisogna chiudere però Qua bisogna chiudere Poi vedremo come, eh Per il momento chiudiamo così Faremo una balconata Non lo so, vedremo Ogni volta che dico vedremo, poi faremo Non faccio più un Kaiser Allora andiamo a prendere le librerie Ne abbiamo altre set Sette il cavolo, devo farle Io non ho legna, logicamente Logicamente io non avere legna Io non avere legna Logicamente Non avere legna Posso usare la legna scura? Sì ho capito Però porca lo giavacca trovata impanata Vediamo un po', me ne vengono 26, 26 potrebbero non bastare Potrebbero non bastare Ho detto, non ho detto che non bastano appunto Potrebbero non bastare Io devo consumare tutta la legna Me ne vengono altre 20 allora a questo punto Voilà, 46 Vediamo un po', facciamo qua Ragazzi la serie che stiamo effettuando in live È davvero figa Ci stiamo divertendo davvero molto perché Perché ci stiamo divertendo Perché è veramente figa Allora, facciamo, poniamo il caso che qua al centro Io ci metta Lambaradam Dicevo, appunto è davvero figa Quanto deve essere distante Lambaradam qua? Facciamo il conto Lì ci metto una libreria Lì ci metto una libreria E il coso lo possiamo mettere qua Sì vabbè Ho fatto tutto giusto Qua Qua Lì Va bene lì Va bene lì Ok Perché ragazzi stavo dicendo appunto Perché ognuno ha un ruolo Ognuno ha un ruolo E come si dice Uno, due Uno, due Qua E per esempio io sono il Il, come si dice Il, il Il, capito È fighissimo questa cosa Io sono il tecnico di tutto Per cui devo occuparmi di dare corrente a tutto il mondo Dovrò dare energia Dovrò dare un sacco di cose Fare gli impianti Se, Minecraft Se qualcuno deve fare gli impianti in casa Devono chiamare me per installarlo Eccetera eccetera Se qualcuno Deve usare la redstone Non è che prendono la redstone E la usano No, devono chiamare me Devono chiamare me E devo essere io a inserirgliela Poi abbiamo il contadino Abbiamo il fabbro Abbiamo lo smelter Abbiamo l'esploratore Abbiamo quello lì che va in caverna O chi va a scavare Tutte le due sere Ogni due notti Diventiamo Ci trasformiamo la notte E diventiamo tutti scavatori E dobbiamo andare obbligatoriamente Tutti in caverna a scavare Tutti Ragazzi Veramente fantastico Adesso è difficile spiegarlo Dovreste essere in live A seguire Anzi scrivete in chat Chi ci ha seguito ieri Nei commenti Almeno so quanti eravate Se eravate qui Eccetera eccetera Trovate il link In descrizione Ok Se io volessi Inchantare questo Sempre uguale 3,7,20 Che schifo Andiamo a raccogliere un po' di legna Va Allora togliamo un po' di legna Degli alberi Disboscati ieri Intanto ragazzi Volevo chiedervi una cosa Ieri No ieri che cosa Si Ieri mattina abbiamo avuto Un dibattito Io Pepo E chi era Gigi Potrebbe essere Gigi Non mi ricordo Forse Gigi Si Io e Pepo e Gigi Sono i nostri dibattiti mattutini Perché Pepo Diceva E Gigi Che quando mangiano le patatine Fanno casino Adesso Può sembrare una stronzata Io In due live fa Ho mangiato le Pringles Tutti le conoscete No adesso non voglio fare pubblicità Le patatine però Ho mangiato quelle In live Ma mi avete sentito mangiare Perché Perché io quando mangio le patatine Me le gusto Cioè le succhio Succhio la patata Eh No succhio la patata è brutto Eh È brutto da dire Non è brutto da fare Eh Allora Nel senso Io le patatine Quando le mangio C'è sopra il sale C'è il sapore Comunque sia Le succhio E me le gusto Non è che prendo le patatine A dieci alla volta Le metto in bocca Le morsico Perché Può anche essere Sì ok Però io avendo problemi di denti Non posso fare quello Per cui me le gusto Con calma E Pepo diceva No io le patatine Le finisco in due secondi Ok ma Se uno compra un pacchetto di patatine E dopo due minuti Le hai finite E c'è la bocca piena Che cacchio ti sei gustato Dico io Però vabbè Era la mia impressione E abbiamo avuto questo dibattito E magari fatemi sapere nei commenti Voi come mangiate le patatine Ecco Come preferite Come vi gustate la patata No la la Le Luke Ok andiamo verso casa Vorrei capire perché Dico queste cose Perché Luke È Luke Basta con sta canzone Ne facciamo altre Intanto mi sta passando Un aereo Un qualcosa Sono finiti lì Un aereo Un qualcosa Me ne ha fatte 14 Ho preso anche due Redstone lamp Prima Le cose Le glowstone Perché le mettiamo All'interno Qua c'è poca luce Porca loggia Porca loggia C'è poca luce Beh Usce Ah se notate ho anche dei diamanti È perché voglio Poi Enchantare qualcosa Ok Allora proseguiamo Visto che ne abbia Scusate ragazzi Ho ruttato Ho digerito Più che ruttato Alla più di poi Allora Possiamo chiudere Tutto ciò così Giusto E qua fare l'entrata Yes Yes E logicamente non mi bastano Che pasqua Me ne vengono Ancora 20 Voilà Poi dovrei avere Una porta da qualche parte Senza che la crafto Eccola qua Una bella porta La porta che porta Porta da molte parti Ecco Allora saliamo su Che poi vi ricordo Che abbiamo anche Un terzo piano Dobbiamo ancora fare le scale Per salire Ma qua è davvero buio Ma è davvero buissimo Qua spawnano la gente Allora Facciamo così Facciamo Ah Così E No Così Voilà Dovrebbe essere a cavallo Con i pesci E facciamo così Poi Allora Ci mettiamo la porta qui Voilà E qua potremmo metterci Dei vetri Andiamo su Dei vetri Dei vetri Dei vetri Ragazzi Non lo so Non lo so Allora Voilà 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 Qua lì rimane aperto Perfetto Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Dobbiamo incantare Però prima devo craftare Eh 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 Luke 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 Prima bisogna incantare Però sta cosa volante qua Dovrei fare delle lampade Che scendono dall'alto Per forza Come ho fatto giù D'altronde Poi qua devo fare il recinto Per salire Ok Devo fare un sacco di cose Ora 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 Doviamo andare giù Che poi possiamo farne anche una su Senza andare ogni volta giù Per non fare su e giù La mettiamo qui per il momento Facciamo 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 Una spada Sì una spada nuova Poi facciamo un piccone Giusto Un piccone E una spada Oh lascia Lascia Ascia Lascia Vai Andiamola incantare Andiamola incantare Allora abbiamo bisogno Di lapiscazzoli Porca loggia Vum Vum Lapiscazzoli Ok Andiamo su Vum Vum Di qua No di qua Allora Comincerei 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 Con l'ascia Comincerei Con l'ascia E farei Efficienzi 3 Bam Più 6 Attacco Perché Per cui Andiamo con la spada Ma mi da sempre gli stanzi Smite Sharpness Cos'è smite Non mi ricordo Cos'è smite Cos'è smite Non lo so Il piccone Efficienzi Un breaking Che è indistruttibile Efficienzi Efficienzi Vuol dire che Che ne so Che dura di più Che vuol dire Io lo faccio Lo faccio Bam Bam Abbiamo anche il piccone Lumbardum E ora mi tocca fare la spada Io faccio questa qua rovinata Prima Bone of Heart Smit Sharpness Eh Mo' Mo' E mo' Boom Mi ha detto anche Knockback Bone of Drunken Bok Bok Un breaking Per cui Ok Dovebbe essere indistruttibile Sharpness Bam Mi ha dato Sharpness E un break drink Sharp Ah sharpness Quando fa freddo Abbiamo la spada Per quando fa freddo Nice Perché in poche parole Quando fa freddo Arriva l'inverno Noi usiamo la spada Con la sharp Con la sharpness Ossia che la sharp Si è messa Abbiamo messa la sharp Sono andato a dormire Si In poche parole Sicuramente ho fatto Delle stronzate Io già Lo so Vabbè Un po' mi sento figo D'avere le cose Inchantate Anche se Servono un cazzo Però mi sento figo Datemi consigli Nei commenti Perché a me Non è mai piaciuto Inchantare Perché da quando Ho inserito Enchanting E pozioni Io se vi ricordate Anche le mie vecchie serie Non le ho mai utilizzate Perché non Mi Piacciono Non mi piacciono Con 3C Uscidiamo questo scheletro E proviamo la nuova spada Proviamo l'altra Aspetta Che devo provare Però non c'è stato gusto Non c'è stato gusto Di provare la spada Perfetto Però con un colpo Ho consumato mezza spada È possibile È possibile Ragazzi Siamo arrivati alla fine Anche oggi Grazie di avermi seguito Come al solito Vi aspetto Numerosi Stasera In live Stasera Oggi pomeriggio tardi Alle 17 Avvisate amici e parenti Condividete Fatelo sapere a tutti quanti E Un'altra cosa Abbiamo le liane Facciamo la farm Del liane Magari Nello speciale O scusatemi Nell'extra Se arriviamo Agli oltre 5000 pollici in su Un bacione Un abbraccio Come al solito E ciao Ciao